Quando calla la notte San Giovanni Rotondo si tinge di rosa. È l'omaggio al Giro d'Italia. Il colore della maglia di leader della classifica ha illuminato il comune e la croce di Sampio sul Sagrato della Chiesa. A San Giovanni Rotondo è stata presentata la sesta tappa del Giro, che da Cassino condurrà i ciclisti nella città garganica dopo 233 km il prossimo 16 maggio. Il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Davide Cassani, ha evidenziato le difficoltà degli ultimi 10 km in salita del percorso tra Rignano Garganico, San Marco Illamis e San Giovanni Rotondo. È l'unica tappa in programma al sud. Il 21 aprile, inoltre, gli eredi di Fausto Coppi e Gino Bartali parteciperanno a un evento nella città di Sampio per celebrare le due leggende del ciclismo. Sarà uno dei primi arrivi difficili di questo Giro d'Italia, anche se non è un arrivo impossibile. La salita è pedalabile, però potremmo assistere a qualcosa di interessante, soprattutto in questi ultimi chilometri. Dopo una tappa lunga potrebbe esserci caldo, potrebbe esserci il vento e quindi sono diverse le incognite. Sicuramente sarà una bella tappa, tra l'altro quella più a sud di questo Giro d'Italia. È sicuramente una metrina di grande interesse che pone alla ribalta San Giovanni Rotondo a livello nazionale. Ovviamente il Giro d'Allustro non soltanto a San Giovanni Rotondo, ma a tutta la Capitanate e alla Puglia intera. Abbiamo anche voluto testimoniare questo nel nostro logo della manifestazione.